Se vogliamo spostare a sinistra, creare veramente un'alternativa di sinistra e far vincere Ambrosoli è necessario votare la lista etico per un'altra Lombardia, a sinistra per un'altra Lombardia. Questa lista che è capitanata dal professore Andrea Di Stefano, economista, noi proponiamo per esempio una legge che prevede di agire a monte e a valle, a monte facendo sì che le aziende firmino con la regione dei patti di responsabilità dove i contributi, gli incentivi regionali vengono dati solo nel rispetto di alcune questioni, cioè nella tutela dell'occupazione e nel non fare delocalizzazioni come molte aziende anche della Bergamasca hanno fatto. Ma agendo anche a valle, nel caso vengano fatte le delocalizzazioni, le imprese devono ritornare tutti i contributi pubblici che hanno avuto negli anni con gli interessi. Questi sono alcuni elementi sul piano lavoro. E poi c'è la questione territoriale del territorio. Noi pensiamo per esempio alla questione della mobilità. In questi anni la regione Lombardia ha fatto grandi opere che non fanno nient'altro che portare ulteriormente traffico su gomma, grandi opere che andrebbero completamente riviste, penso alla Brebemi, la Pedepontane ed altro, che hanno portato via enormi risorse economiche a questa regione, a questa regione che sono state anche colpite dal malaffare, lo sappiamo benissimo, ma pensiamo che si debba rivedere grandi opere e pensare a un potenziamento del trasporto su ferro, del trasporto su ferro sia per quanto riguarda i pendolari. A Milano il tragitto Bergamo-Milano, lo conosciamo, è pessimo. Si arriva prima in Aeroparigi che a Milano, che un lavoratore a Milano la mattina, potenziando il trasporto su ferro, potenziando il trasporto su ferro anche del trasporto merci, chiaramente, quindi vuol dire anche andare incontro alle esigenze del lavoro, ma anche sviluppando tutte quelle politiche di chiusura dei centri storici, di sviluppo delle bici in città, del car sharing, eccetera. Tutte queste politiche e di riconversione anche elettrica, per esempio, del trasporto, in particolar modo del trasporto di merci. Sono queste politiche grosse che la nostra lista fa.